La prima domanda che vorrei fare a Giulio Iacchetti che è qui con noi riguarda un percorso da lui cominciato da un paio di anni che forse è stata anche una risposta diciamo alla timidezza di una certa parte della produzione italiana che l'ha portato a assumere il ruolo di produttore. In realtà più di due anni, il progetto interno italiano è nato sette anni fa, un'iniziativa presa da me e da mia moglie Silvia Cortese con l'idea di reintegrare in un percorso progettuale nostro tutta una rete di artigiani in giro per l'Italia. Reintegrare significa non trattarli come fornitori ma considerarli attivi in tutta la fase del progetto e anche nel racconto, nella narrazione del marchio che si chiama Interno Italiano. Quindi presenze attive, non terzisti ma collaboratori uniti a noi nel progettare le cose e poi nel realizzarle. Ecco però da quest'anno Interno Italiano partecipa al Salone del Mobile, quindi lo troviamo in fiera. E questo è un approdo bellissimo. Il primo sogno per noi è stato fondare Interno Italiano ma avevamo la chiara convinzione che non avevamo gli strumenti culturali e ovviamente imprenditoriali per portare avanti questo progetto che negli anni si era sviluppato e portava anche belle soddisfazioni. E finalmente l'incontro con Marco Gazziero, proprietario di Alivar e anche di un altro marchio che si chiama Mayome, l'incontro favorevole perché lui ha acquistato Interno Italiano e in questo modo ci ha permesso di arrivare in fiera che è un altro prodo bellissimo ma nel contempo di ritornare in una posizione più consona alle nostre capacità quindi alla direzione artistica, alla sola progettazione. Ecco una caratteristica devo dire di Interno Italiano è stata anche quella di riuscire a coinvolgere non solo gli artigiani ma anche dei giovani designer. E bisogna riconoscere che dal tuo studio sono usciti molti giovani designer che riescono a camminare con le loro gambe in questo mondo così difficile. Quindi la tua posizione rispetto al giovane design e la tua posizione rispetto all'autoproduzione? Allora, la mia posizione riguardo ai giovani designer è quella di guardare sempre la qualità e meno la carta d'identità. Non mi interessa l'età, mi interessano le idee e ascolto tutti. Cerco di seguire tutti, di capire il loro percorso, credo di essere un buon selezionatore e l'attenzione per i più giovani è un dovere nei confronti di persone come noi che da tanti anni frequentano il mondo del progetto, eccetera. È un dovere perché dobbiamo in qualche modo aiutare chi è capace, chi è bravo, facilitare dei passaggi. Loro sono bravi e ce la faranno comunque. Facilitare vuol dire rendere un po' più agevole la strada. Ed è questo l'aspetto che mi interessa di più di tutta questa questione. Ma in questa sovrapposizione di ruoli, diciamo, il progettista e l'art director, come ci si pone? Quali sono le differenze di approccio? È un po' come certi attori che invecchiando, perché nel frattempo invecchiamo, credono e pensano di poter anche considerare il tema della regia. È la stessa cosa per me. Dopo tanto tempo speso nella progettazione, credo di poter spendermi anche in un'altra dimensione che è quella più appunto della direzione, di segnare una direzione però. Come la vedo io, la posizione del direttore artistico è quella di una figura che deve dirigere. A me non piace invece chi si occupa integralmente con un'occupazione militare di tutti i ruoli creativi di un'azienda pensando che il direttore debba diventare in qualche modo un duce supremo. Il direttore deve, nel migliore dei casi per me, aggiungere intelligenze, qualità, professionalità per andare a occupare tutti i ruoli all'interno di un'azienda, che sia il progetto dello stand, il progetto della grafica, della comunicazione visiva e poi ovviamente anche dei progettisti a chiamare. Quindi è inevitabile la domanda successiva, perché da quest'anno tu hai assunto questo ruolo di art director all'interno di Danese, quindi un'azienda storica importantissima con un tema molto interessante che è quello delle ricuciture. Cosa significa ricucire all'interno di un marchio? Beh, in sartoria ricucire vuol dire congiungere due parti separate. E il filo è il progetto. In ingegneria è il ponte, gettare ponti tra due sponde separate e unire le terre. Ebbè, il progetto per me si basa sempre su questa metafora qua, guardare indietro per rilanciare verso il futuro. Le aziende vivono perché devono, sono costrette felicemente ad avere un futuro. E il futuro però non può che partire dalle cose fatte e spese. Danese ha una grande identità, ha un grande passato, bisogna stare attenti a non chiudersi in un sarcofago. Perché l'attrazione c'è nel guardare indietro, nel misurarsi anche con le grandi mani, le grandi intelligenze che hanno dato vita a questo brand. Ma nel contempo le aziende devono vivere di contemporaneità e di futuro. Quindi per me si tratta sempre di fare questo lavoro, portare il DNA antico in una struttura moderna. E ovviamente in questo lavoro, lo hai detto, ti sei dovuto confrontare con due giganti come Mari e Munari. E quindi parlando di maestri, riconosci dei maestri? Quali sono stati i tuoi maestri? Ovviamente, abbiamo una grande fortuna. Tanti di loro sono ancora tra noi, qualche d'uno ci ha lasciato, però noi abbiamo questa scuola incredibile, soprattutto milanese. E i miei riferimenti sono Enzo Mari, Aldorossi, Sozzas e ovviamente i fratelli Castiglioni, che rappresentano un po' per tutti, dei santi patroni. Con loro ci si misura tutti i giorni, ma guardando i loro oggetti, che raccolgo in studio, chiedo sempre, e dico sempre ai ragazzi che vogliono imparare questo lavoro, la nostra professione, che gli oggetti vanno acquistati, posseduti, toccati, verificati. Gli oggetti parlano, se li sai ascoltare, e mostrano delle intelligenze incredibili. Un'immagine su Google non ti darà mai la stessa emozione.